Il Tar sospende il maxiconcorso della Regione Campania. Per i giudici è stato violato l'anonimato. Con questa sentenza è stata sospesa la procedura per l'assunzione di 950 unità a tempo indeterminato per la categoria D. Il concorso è sospeso fino al 6 ottobre, quando ci sarà l'udienza pubblica. Diversi candidati, assistiti dallo studio legale Leone Felle, avevano fatto ricorso per contestare le modalità operative con cui Formez e Commissione Ripam hanno gestito la selezione. Tra i rilievi sollevati c'è anche una questione relativa ai questionari. C'è stata infatti, secondo gli avvocati, un'impennata anomala di ammessi tra coloro che hanno svolto la prova il 20 settembre pomeriggio. Le statistiche spiegano, ci dicono che il 25% di coloro che hanno sostenuto la prova in quella data ha passato la selezione, mentre nelle altre sessioni la media è del 7-8%. È un dato anomalo dovuto a questionari non omogenei. Lo studio legale ha proposto lo stesso ricorso anche per la selezione parallela finalizzata all'assunzione di 1.225 unità di personale a tempo indeterminato e riservate ai candidati diplomati. L'udienza cautelare si terrà il prossimo 25 febbraio. La Regione ha precisato intanto che ha dato mandato all'avvocatura di ricorrere al Consiglio di Stato per chiedere l'immediata sospensiva dell'ordinanza della quinta sezione del Tar Campania. L'amministrazione regionale confida su una decisione positiva da parte del Consiglio di Stato, essendo la procedura e le modalità di selezione del concorsone identiche a quelle attuate dal Formez per altri maxiconcorsi pubblici.